La nazionale italiana Calcio Amputati ha scelto Pescara per prepararsi al meglio ai campionati mondiali che si terranno in Turchia dal 29 settembre al 10 ottobre. Per la prima volta gli azzurri si ritroveranno nella città adriatica dal 2 al 4 settembre per un appuntamento importante tra i giorni intensivi di preparazione tecnica. Gli allenamenti dei 18 atleti convocati si svolgeranno al campo sportivo donati concesso gratuitamente dalla Gladius Pescara 2010 ASD che il giorno 3 settembre metterà a disposizione la propria compagine e allievi per un amichevole che inizierà alle ore 17. L'evento è ottenuto il patrocinio e il contributo del Comune di Pescara grazie all'impegno dell'assessorato alle politiche per la disabilità. Il raduno di Pescara è stato presentato nel corso di un incontro con la stampa Palazzo di Città dal sindaco Carlo Masci, dal delegato Fispes Abruzzo Simone D'Angelo e dal presidente del sodalizio ASD Gladius Pescara 2010 Angelo Nicolò. Questo raduno della Nazionale di Calcio Amputati che si prepara a Pescara per i campionati mondiali che si terranno in Turchia alla fine di settembre ci riempie di orgoglio perché parliamo di inclusione sociale, parliamo di quartieri periferici, parliamo di chi supera i propri limiti e dà esempi incredibili di forza d'animo e di volontà. Ci sarà un quartiere che è quello di Villa del Fuoco che si stringerà attorno a questa iniziativa, ci saranno le famiglie, è un momento importante. Dopo il sindaco le parole del delegato regionale Fispes Abruzzo Simone D'Angelo. Sì, credono fortemente nello sport nonostante le problematiche fisiche, parliamo comunque di atleti che hanno una preparazione fisica importante e mi piace sottolineare che oltre all'aspetto tecnico, quindi la preparazione fisica, l'aspetto prettamente sportivo è una grande manifestazione di inclusione che ospiteremo qui a Pescara.